I guarracini, quelli che mi pizziano sempre, cala dei guarracini. Allora ora che entriamo, a feo dell'alba, che sono delle arancioche, arancioche, fanno parte della famiglia dei coragli, e il loro colore è dovuto al fatto che non prendono mai la luce di soli, diversamente. Qui nella grotta azzurra ritroviamo anche delle pareti di coperte d'azurro. Vedete che sono le pareti gialle e belle che abbiamo di fronte, questo è tutto azzurro. Grazie. Per te che tu ne ho anche dicevo, non inizia l'azurro. Eh, e la, una ruota più ancora, e la ruota più anche lì, Grazie a tutti. Sì, è lì da sole. Hai visto? C'è un cagnolino che è pieno da sole e buzia, sulla barca. Ah, eccolo qua, la roccia. E correndo non si arriva fin sotto Capo Palinuro. Ma sono persone che non si trovate a me un po'? Sì, questa qua la fanno quasi sempre lì su, perché praticamente non ho deciso a 25 metri di tomba. Noi siamo qua, certe volte troviamo l'oro sotto che fanno il muro. Noi a Capo Palinuro entrano in grotta o dalla grotta escono fuori. Noi a Capo Palinuro. Noi a Capo Palinuro. Noi a Capo Palinuro. Noi a Capo Palinuro. Eh! Ah!